forse forse a me sembra molto in tema bellissimo bellissimo ma è il seguito? a parte che non ci si capisce una come c'è? quella è una sega vai notate problemi con l'emulazione amici si 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 evidentemente io l'avevo schivato non è possibile ah qui non si salta giustamente si salta ma si si ci sono delle stelline che forse fanno qualcosa wow hai visto la cosa? lancio c non mi lancio c sono già morto ah no sono qui non vi curate di me sono già morto vai a prendere le stelline si è tolto la maia sono già morto e adesso prendete una bella razione aspetta fermo devo fare una cosa devo cambiare la dashboard amici sono semplicemente non lo faccio per voi che siete già qui e tanto lo sapete ma nel caso qualcuno dovesse unirsi e quant'altro quindi aspettate un secondo fatemi la mia dashboard scusate questo si chiama heated bar ci è stato appena suggerito la giuria popolare non mi ricordo non ho letto perchè ero e altri questi cosa? e lo so e lo so va bene e affini anche tanto affini dai andiamo così paraculi 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 forti torniamo qui anzi torniamo qui e ragazzi qua i mezzi sono quelli che so mezzi in mezzi però minimize c'è sempre minimize è sempre lì sempre ai nostri cuori ho preso un barile e si spara con il secondo pulsante anche qui se spari così spara poco se spari tenendo premuto l'autofire è molto lento se spanni come un maiale oh oh via 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 minchia ma fa un ballettello questo avviso ballettello su camale vabbè basta che ti sparo non so se si basta eh porca puttana zocca sempre tutti i giochi basta i risposti oh che bello come more è bellissimo e se ne va che bello queste schermate di fra gli stage è molto lumino come se tutto 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 parata 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 ma il boss e mario brega dicono giustamente stamano può essere più ma può essere vero un orso nudo c'è un orso rosa di lost qui c'è problemi oggi credo sia per la per la sgdq anzi no questa è la agdq perché ovviamente fanno tipo 150 mila se ti va male spettatori e quindi magari l'infrastruttura è un attimino sottosforzo questa è una delle cose di morte che sono fantastici e vero vero che non è l'inazion c'è un sacco caruccio che mi faccio si tratta di pensare che sono di un carto fagli vede fagli vedi antonio fai io ero tu certo devi solo sparare in mezzo agli angoli puoi che schivare volete che è molto perché perché non ci hanno schivato e devi smettere di sparare perché ovviamente quando quando spari bene quando spari puoi fare tutto oppure prenderli in faccia magari magari uno spara nel momento giusto no no stronzi muori tu e muori pure no che stronzi per parentesi non te la meriti non te la meriti questa è la cattiveria di mettere l'app usate chiedo tu dove va non l'ho preso io non dice antonio quando muore ha salvatato esatto il boss il boss che fa la danza della pioggia e mi brucia invece lo sparro tipo in diagonale è stato abbastanza ora si arrabbierà spero ma vuole così vuole si è sbruciato no quello ti deve tenere contro i passi ma tra l'altro forse deve giocare a Flavio eh non ci abbiamo pensato Flavio è qui per giocare no io sono qui per guardare se lo sparano vuoi prendi tu no no sono morto e devo fare yes prossimo lo fate voi due che sto tipo morendo sta morendo neanche l'italiano vuoi che muoro? tu 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 ti ho usato però questa è la fama io sparavo mentre non lo sapiamo perchè mi ha preparato un po' non ti posso sparare che è questa cosa che cos'è questa cosa la pre-duit c'è una chiavica si si abbastanza siamo abbastanza d'accordo tutti e potrebbero che so investire nel fare un'app decente se non ci saranno ci saranno ci saranno ci saranno no? porco non è anche qua i porci eh ma facebook è la prima provata è per funzionare le cose non sempre che non uso mai le bombe le bombe le bombe anche perchè ti dava degli iframe vanno male le pistole state impagno sono solo che muore ma prima ero bombe sul terzo tasco ora sono sul secondo tasco e quindi sono morto male sono morto male continuo Antoni continua 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 non ti preoccupare non ti preoccupare Antoni queste perchè sono virate e poi potreste uno sparare e schivare è una cosa difficile questo salterate tombstone con lapide è uno stompa il guaio ma quello lì ma sono super veloce sono super veloce sono super veloce sono super veloce eeeh adesso è un essere di steroidi il gusto assedi super giovane eeeh questo ha preso l'essere di steroidi questo ha preso l'essere di steroidi e vedi che diventa rosso perché che fa questo? eeeh eeeh perchè si è troppo sotto devi beccarlo con la stellina tra l'altro se tu fai la bomba mentre lì ti posa, sei in inciclione sei anche in inciclione e anche dopo che esplorereai un po' gli hai freddo e vola al cielo così in maniera brutta un altro quello che esce dalla mangiatoia del cavallo è bellissimo è troppo tempo che non muoro infatti muoro il re del cavallo è un grande classico del western soprattutto quelli un po' di giochi e di e già là voilà adesso però sono abbastanza alto quindi potrei iniziare a giocare in maniera di curiosa a volte sono belli i movie western quella gente che spara e che cade lungo un tuorco cuora non so che stai nella mangiatoia e invece no tu dà da per terra dentro dei bughi tuorco oh il sensei il sensei ragazzi attenzione guarda lì dov'è? ciao babic c'è un quadro di magritte qui due quadri di magritte e poi c'è una capa di burro il belletto che mi fa il cosmo è una cosa ma sono i ghostbusters oh diudodio come è cambiato il sensei tribes ahahahahah siamo passati ad altro bisboc nonostante abbiamo finito anche blood bros nel frattempo perché ormai siamo un fire fa una ricchietta dai doppio il palo e muori male io gli avevo a tenere no 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 non pensavo che quello fosse proprio guardarsi no non è verticale no non è tagliato eh ha un formato strano è tipo quadrato si è tipo quadrato con qualche scanline forse forse si forse forse si ma le scanline le hai messo in tutti i assaggi no 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 è una shader tu mi vuoi suene maialino o stendina o stendina o stendina spare tu spara tu spara questo e non spara la mia maale io vedo io sono morto si vede mame si vede mame diteci se si vede mame dai spero di non esistere certo che la chat blu sul nero non si legge Enomo tokei, salute, bel nick anche se non si aveva dubbi Grazie Skyzoo73 per il follow Grazie caro, e soprattutto morirò per te questa morte è dedicata Ogni follow il vittu morirà una volta Dai ragazzi facciamo questa cosa Anzi, no il contrario, un follow per ogni vittu Eh, riesco a andare in senza full screen e sono stronze, va bene Eh sì, in effetti sì, anche se... No, mi rendo conto che magari l'è disattivo Di che anno era heated barrel? 93, credo Almeno così ce l'ha scritto nella schermata Inizio, anzi no, sì, sicuro, e poi muoio Sì, ce la può fare, ce la può fare, non mi sparare la cosa Grandissimo, sono bombato E i manzini di morte sono sempre benissi Scusami Eh vabbè ho capito però Porco No questi porchi non droppano Quelli neri si però Quelli droppano, quelli la droppano dinamite che però ti salva la vita Eh? Cioè dinamitazzarsi nel momento giusto, stranamente E' abbastanza... Dov'è l'altro follow? E' morto di nuovo eh? Eh eh eh, io lo faccio per voi eh! Eri morto di nuovo, due follow ragazzi Attenzione Corso rosa Basta follow però adesso eh Vero? Si stronzi da... Non la fai lasciare, ma tu muori Che te ne devi fare? Tanto già ce l'hai Quanto non si sta Che le, che le, che le Che le, che le Niente è la stessa Però è... Esatto Si è stato... Si è stato stolto in gordo e in fingardo Si è stato avido Si è stato vivo avido Un orso rosa, gli orsi rosa droppano E' una figata, gli orsi rosa sono i nostri miei amici Esatto Qui sono i vecchi che spuntano dai tronchi Con le pistole Che non lo spartano Oh adesso questi Eeeh Hai imparato a tirare le fecce? Mi sono fatto molto male Oddio Molto male Molto male Molto male Però eh Wow adesso sono super Unca... Uncavorato Qui c'è del gay comunque Broke back bar Giusto Broke back bar Si non voglio continuare a prendere il padella L'uomo padella Questo dei bastiani Ci abbiamo invocato prima Eccolo qua Com'è? Ah no, mi sono diventato un'altra E invece Però hai rotto un po' le scavo eh Ti mette in quel loop lì e sei finito Cioè gli lasci la paghetta Oddio E anche così gli lasci la paghetta Oddio Se no mi sto dando un sacco di soldi a questo signore Oddio Stronzo l'invalza pure E' un famuccio questo, no? E' un personaggio Ti metto E' un personaggio Sì sì Sei, si Stai 5 Río Sì sì Bellissimi queste schermatine di... Di passaggio Veramente Delizio Subito Boss Senza pietà Mi sono abbastanza distrazzo Così E poi La chat La chat si stanno organizzando una mega di unire sindacale prendimi se hai il coraggio prendimi vabbè però senza proprio forse prendimi se hai il coraggio non c'è nessuna previsione dell'attacco mira lui se hai il coraggio mira lui non c'è il controllo non c'è il controllo non c'è il bariline come nasce il lumino che qui filtrava il seri di spalle esatto è il pirata è il pirata è così il pirato non c'è proprio il pirata e poi per me se non ho mai avuto Maggiorno guarda cosa io in maniera.. P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. Planning un credito ci sono bruciati di parte da noi e 20 crediti poi adesso ho la cosa e la super speed o non mi trirai mai perchè ho la super speed e wicce unισciotto pop up pirate pop up pirate ah si 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 e da pure a contatto che però in italiano mi sembra che era poppy non ti pare ma nella vita traduciamo ricordavo poppy perché tu sei a roma nord a roma nord a roma sud e roma sud invece roma nord così vicino all'inghilterra pirata pop up non un po anche pirata poppy comunque grazie per questo riciclo immediato questo sparo anche di lato e lo sparo di lato è la sacra tecnica dello sparo di lato e allora vai niente c'è tutto c'è il becchino che scava lancia le cose infuocate e tira fuori i fantasmi che cosa fighissima bell'errima oddio 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 mi ha ucciso leggermente a palate ti da anche le palate in faccia no non mi avrai mai ma io non ho i barili e quindi mi avrai pizza palate e zucchine se ne va se ne va se ne va torna 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 qui torna qui torna qui torna qui no sono moschi tanto che mi sa che il teschio esplode e infatti no momento 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 questa non è la mia 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 di mia quella è bellissima cosa cattivissima scusate tutte cose morte giù si tornava al lavoro non c'è un attimo di feria 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 perchè in realtà il territorio era costruito sopra un antico cimitano indiano giusto si sa si sa si sa la TAB Corporation era costruita sopra un cimitano indiano porca sono gustose quelle lampade lì dietro che cliccherano guarda 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 graficamente la cosa della butta è che ti fai scodere e non muorino la mia fascina BOOM! entrambi due pirla un barile ci ha dato? prima del boss invece di darci il doppio coso con la testa di indiano che spara le big bubble che diventano maniche e picchia comunque il boss è diventato il pinacido BOOM! ah si passano la no vabbè uno dei più segnali che abbia mai visto un boss che è bravo 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 questo qua si è il pre boss se guardi la barra della vita no secondo me non mi hai preso il pre boss è come il pre diciottesimo no i prende in faccia così eh si vabbè 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 col calvadosso la piccina non è mai ah ecco per niente tad corporation cioè l'avete legato e costretto a suonare no non è vero è passato un calvadosso non un bicchiere ma lo sa l'abbiamo detto in direlli ma che cazzo vuoi sparare qualche altra cosa che ne so la persistenza delle hitbox così il quadro di da lì la persistenza delle hitbox un po' metafisico ok questo posto lo soprannominerò qualche altro cazzo qualche altro cazzo che non vuole un solo un nuovo volgare che dice cosa bravo attacca lui attacca lui magnateli bravo attaccami mentre esplotta però hai un portale balbe è passato zambani chiede ma il pre boss è come il pre di 28 in che senso? perchè ti fa spendere un sacco di soldi o perchè ti fessi uno busto? entrambe probabilmente probabilmente entrambe vai vai sparalo mentre lui vuole uccidere solo me maledetto è morto non prende più danni evidentemente no perchè è ancora in grado di farmi un male un male bambino infatti uno è un buccio di più e siamo a due un sacco di follower eh un sacco le grill un insert coil abbiamo finito di nuovo i gradi ma siamo dopo a cossi no ho fatto no madono vabbè poi puoi rientrare si però devo mettere il nuovo altrimenti che faccio capito poi se questo non viene accasciato però ecco qua muori ma si è ricaricata la barra perchè sei rientrato non voglio credere non voglio credere perca soccolo ti immagini se in linea si ricarica un po' la barra sarebbe tipo a 600 vite questo tizio non riesce a sparare comunque mentre fa con animazione no è vero non dai ci hanno pensato che se no era un modo per bug abusare addio ci sono sempre dei soldi trucchi subito no no è vero, è vero, è vero, è vero, la vita nera si ricarica ragazzi, la vita nera si ricarica, quindi noi dobbiamo uscire, oh Gesù, grazie ragazzi, io cerco di far esplodere, dai, che questa non è vera, si rincidimi, dai, 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 che mi ha preso, ok, non concediamoglielo, comunque praticamente finire questo gioco costava quanto compri il capinato, praticamente, mio dio, a stronzo, mamma mia, che le tue mutande gialle, game clear, grande, diceva che c'era un problema di emulazione, l'abbiamo giocata all'inizio e alla fine, mi sembrava buono, oh, intername, l'abbiamo misto, ma, se non c'è, si poteva giocare in 4, forse si poteva giocare in 4, quello diceva se no, ma nemmeno questa, non abbiamo provato, questa no, è l'altro che era 2 player, forse, abbiamo sciacquettato tutto, io stavo dicendo, toletta, ma se ne fate poi c'è o Susanne in versione 16. C'è fuori, sono morti, stai passando l'uco Ah, è lui Ok, ha avuto la prima del contratto solo, giusto Allora, e dunque abbiamo un'altra mezzolettina, volendo Che vogliamo fare? Allora Iniziamo, iniziamo Che questi giochi sono stati molto rapidi Beh, noi siamo stati rapidi i giochi, noi siamo stati molto bravi Vero, è stata una speedrun Ah, chiaramente le credi Potrebbe avere un sacco di soldi Esatto Wild West Cow Non lo conosco, Liquid Plumber Però prima ci hai consigliato bene Quindi potrei voler accettare Eccolo, fa sto stronzo Ah, queste sono ancora le carine Questa è una delle versioni più belle che si sparavano le palline Ma era molto divertente Sai che mitologia c'è? Vabbè Non credo